Un pareggio importante, anche se magari nel primo tempo ero convinto che prima dell'espulsione di Uric questa squadra potesse anche vincere la partita, sinceramente, perché aveva fatto una grande impresa nel rimontare e poi siamo arrivati all'espulsione di Uric a parità numerica e quindi è stato un attimino tutto più difficile e abbiamo ingestito più nel secondo tempo. Ecco, nel primo tempo, prima di avere il rigore su Coralli, i tuoi giocatori ne hanno reclamati altri due, palli e dubbi, insomma, uno sempre su Coralli e prima ancora su Uric. Tu, dalla panchina, come li hai visti? Mi sembrava soprattutto quello di Uric, mi sembrava un fallo, un fallo da rigore. Come l'espulsione, sinceramente, non l'ho vista, però io ho di grandi dubbi che ci sia cattiveria in quell'intervento. Mi sembrava una cosa abbastanza fortuita, anche se il fallo c'era e l'arbitro ha visto e ha giudicato in altra maniera. Dispiace, perché perdiamo un giocatore importante, come perdiamo Paolucci e come perdiamo anche Pelizzera, perché era difidato, sarà squalificato e andiamo adesso a Lanciano a fare, dobbiamo fare ancora un risultato positivo, però con qualche defezione di troppo. Ecco, l'infortunio di Paolucci è una cosa seria? No, io credo, spero di no, però gli esami li faremo domani, accerteremo l'identità di questo malanno. Sembra che sia una distorsione, però adesso dobbiamo vedere gli accertamenti domani. Avete domani?